Ok, salve, mi presento, sono Elisa Tantari, sono responsabile d'amministrativo della Alutan SRL. L'azienda nasce nel 1996 nella capitale, proprio quest'anno infatti si compieranno 25 anni di attività. Stefano Tantari, mio padre, è tuttora titolare dell'azienda, dopo lunghi anni mette in gioco la sua esperienza e soprattutto la sua ambizione, puntando soprattutto nel prodotto di qualità e quindi scegliendo il marchio allora Alcoa acquisito dal Colosso Hydro, che ha creato poi il brand di Original System di cui noi oggi ne facciamo parte. Nel tempo si è cercato sempre di puntare soprattutto al commercio del prodotto originale in quanto possessore di brevetti a marchio R, nonché sulla qualità del profilato estruso che viene utilizzato di solo al mio primario. Mio padre allarga il giro, riesce ad allargare il giro da Roma e provincia a tutto il centro-sud, inserisce anche agenti di commercio che ampiano il giro di zona nelle regioni di Umbria e Toscana. L'azienda punta sempre ad una clientela qualitativa e ad offrire un servizio altrettanto elevato. Viene inserito personale preparato e qualificato, istituendo così un ufficio apposito che si dedica principalmente ai preventivi, agli sviluppi, a dare un supporto tecnico, anche a livello normativo. Su richiesta riusciamo a fornire anche un supporto in cantiere. La clientela viene guidata nella scelta migliore, sia nella base tecnica che normativa, lasciando poi all'artigiano o anche alla grande impresa il compito della realizzazione del prodotto finito. La nostra azienda vanta di uno spazio di 1.500 metri quadrati, tra profilati e lamiere, laminati e ferramenta. Abbiamo ben 25 colori in pronta consegna, che ci dà molta competizione sul mercato. Possediamo inoltre anche un altro stabilimento, dove abbiamo un deposito esclusivamente del grezzo. Nell'anno 2020, anche se colpito da pandemia, è stato per noi comunque un anno molto soddisfacente e produttivo, ed ha manifestato soprattutto che è stata una spinta in più per i nostri collaboratori di poter fare ancora di più. E con l'impegno di tutto quanto è personale, anche quest'anno, anche l'anno corrente, si è rilevato un periodo molto fruttuoso. Da quello che si sente, dalle stimi di esperti, si presume l'anno 2022 ancora in forte crescita. Proprio per questo l'azienda continua a investire in macchinari, oggi indispensabili per offrire al mercato prodotti altamente performanti termicamente. Ovviamente ci troviamo anche in un periodo di scarsità delle materie prime, ma noi sicuramente come IDRO, come distributori ufficiali Original System, ci riteniamo fortunati in questo periodo, perché ovviamente essendo IDRO un leader mondiale dell'estrusione, sicuramente non ci lascerà mai a piedi. Sicuramente è un periodo in cui si tardano le consegne, ma mai come altri estrusori che stimano consegne, da quello che si sente dire, dai 4, 5, 6 mesi dagli ordini. Quindi noi oggi ci riteniamo fortunati di essere partner IDRO e rivenditori ufficiali Original System. In aggiunto a questo, anche grazie all'accordo avuto tra OS, Deloitte ed Enelix, ha consentito di offrire un ulteriore servizio alla nostra clientela. Parliamo appunto dello sconto immediato in fattura del 50%. Anche qui l'azienda ha scelto di creare un office dedicato alla nostra clientela, permettendole di agevolarla nell'acquisizione dei lavori. Deloitte mette appunto a disposizione una sua piattaforma informatica, in cui i serramentisti riescono a gestire al meglio la pratica, e di cui vogliono approfittare di questa opportunità. La piattaforma serve appunto per lo scambio di documenti e per lo svolgimento della pratica, che è necessaria poi l'Agenzia delle Entrate per il passaggio del credito d'imposta, che passerà prima dal cassetto fiscale del cliente finale al serramentista, per poi ad arrivare ad Enelix, che provvederà al pagamento. Questo entro in non oltre i 40 giorni dall'inserimento della pratica. Il cliente è sembrato abbastanza entusiasto, molto soddisfatto, soprattutto per la precisione, per la puntualità nel pagamento e di come viene gestito il tutto. Si sente al sicuro anche perché noi come azienda li appoggiamo, li assistiamo, collaboriamo con loro, avendo appunto un personale qualificato per poter gestire e rispondere a qualsiasi loro quesito. Questo appunto ha fatto sì che il lavoro aumentasse, ha trascinato una clientela nuova sicuramente, una clientela predisposta alla qualità e al servizio che noi offriamo. Diventando gli edifici oggi sempre più ecosostenibili e i serramenti sempre più tecnologici, proponiamo al mercato prodotti altrettanto tecnologici. Vedi le nuove leghe utilizzate, l'Hitro Circle, che è una gamma di alluminio di primissima qualità ed è realizzata con un minimo di 75% di alluminio riciclato, il che significa una produzione minima di CO2, sempre a difesa dell'ambiente, quindi per costruire un futuro migliore. I nostri prodotti principali per questo sono R72 TT 1.3, che è un nostro prodotto di punta ed attualmente è il più venduto, è in continua evoluzione e sicuramente ci saranno, come previsto nel 2022, molti importanti cambiamenti che porterà questo sistema ad essere sempre più apprezzato, soprattutto per le nuove performance. Abbiamo inoltre l'R85 TT 1.0, che ad oggi è il prodotto più performante in assoluto di tutta la famiglia, viene utilizzato soprattutto in quelle zone che necessitano di grande abbattimento termico, come le passive house, che richiedono la massima efficienza energetica. L'entrata in vigore delle nuove normative, in funzione soprattutto del risparmio energetico, anche i sistemi scorrevoli si sono dovuti adeguare nei termini di performance e contenuti estetici. In questo periodo nasce appunto il DS110, che è un sistema che racchiude in un'unica soluzione, quindi appunto alzante e scorrevole, valida anche per le grandi metrature. Le elevate prestazioni termiche di questo scorrevole lo rendono quasi alla pari di un infisso abbattente. Con questo si può accedere ai vari bonus, come l'Ego Bonus, soprattutto nelle zone che noi commercializziamo. Oggi ancora di più rinnoviamo la nostra scelta di essere ufficialmente rivenditori e utilizzati original system, soprattutto in questo periodo che la materia prima scarseggia un pochino. Sembra che noi ancora non subiamo questa forte crisi, proprio perché facciamo parte di questo leader più grande al mondo. Proprio grazie a loro ancora ad oggi riusciamo a sostenere il nostro servizio, quindi tempi di consegna molto brevi, grazie anche al nostro grande parco di mezzi, che riusciamo a consegnare ordini a volte anche complessi, entro e non oltre le 48 ore dall'ordine. Tutto questo oggi permette ad Alludan di garantire alla nostra lintela un servizio sempre costante ed efficiente, consentendo appunto alla nostra azienda di crescere seguendo le esigenze del mercato.